Buonasera Presidente, bellissima, un po' tunnale, questa la terrei per novembre, quando devo comunicare l'aumento dell'IVA. Cosa sta facendo Presidente? Buonasera, sto provando ad avvinare gli abiti alle prossime difficili decisioni, dovrò prendere, sempre in maniera molto elegante, lo hanno riconosciuto anche in media più sofisticati. Sì, è vero, caso affari italiani, caso siri, Giuseppe Conte risolve elegantemente, è vero, ha visto anche nei momenti più spinosi, non perdo lo charme di James Bond, Giuseppe Conte, lo 007 del Gargano. Sì, comunque le ricordo che lei non è James Bond, è il Presidente del Consiglio. Ma voi l'avreste mai detto? Cosa? Che un gagà di Foggia potesse diventare a tutti gli effetti Presidente del Consiglio. Vabbè, insomma, comunque... Mi è bastato stroncare la carriera di siri, mercoledì, e per tutti, ora sono all'alcide del Gasperi del cambiamento, non più il Gigi Rizzi di Via Veneto. Vabbè, adesso sì, è stato... Presidente del Consiglio. Sì, abbiamo capito, eh, Presidente del Consiglio. No, lo ripeto perché devo convincermi che è successo veramente. È successo. Ah, se mi fa una cortesia? Se posso, guardi, dica. Me lo può ricordare chi sono io? Il Presidente del Consiglio. Uy, che tempra, che decisionissimo. Guardi, posso dire, in effetti, Consigli è stato bravo, eh. Beh, sì, avevo un blazer blu in cashmere che mi ha dato una forza, non mi sentivo così determinato l'ultima volta, che ho scelto una pochetta in titta con la cravata. Sì, con la cravata. Però, senta, la Lega non è tanto contenta, dice che lei non è più un garante. Guardi, si sbaglia. Sì, si sbaglia. Io sono molto galante. Chiedela a signora me, l'ho fatta vincere a biliardo. Garante, non galante, garante. Eh, si figuri se non sono garante. Cargiulo, scusa. Sì, Presidente. Cosa fa? Dove va? Ma come cammina? Ce l'abbiamo una giacca da garante. Ma non serve la giacca? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, Presidente. Eccolo qua, questo fumo di Londra. Ma lasci stare. Due bottoni. Le sta una pittura, Presidente, guardate là. Presidente, non sarebbe indicato più un doppio petto come garante. Ma è il senso. Presidente, vi ricordo che il doppio petto ho buttato a Berlusconi. Eh. Ah, ecco. Per carità, allora è meglio una swing in London anni 60. Ma può smettere di misurarsi? Il fumo di Londra, due bottoni, lo teniamo per quando dovrò annunciare quel bruttissimo cazzo su per il culo della patrimoniale. Presidente, ma cosa sta dicendo? Ma oh, ma come cammina? Mi scusi, la scivolata inelegante. Eh no, ma molto eh. Ma come Presidente del Consiglio, devo sbrogliare un tipo di matassa. Ho capito. Guardi, però, dove va? Senta, i maligni dicono che lei sia lì solo per togliere le castagne dal fuoco ai 5 stelle. Oh, che bravo che me lo ha ricordato. Cosa? Le castagne sul fuoco. Ma no, veramente le ha. Ma no. Mi ero dimenticato le castagne sul fuoco. Si sono bruciate. Eh va bene, ma guardi. Mannaggia a me quando mi metto a fare il Presidente del Consiglio. Sì, ma certo. Ma però, se lei è un Presidente del Consiglio, non deve solo risolvere le liti, no? Deve guidare il paese. Gargiuno? Dove va? Ma basta! Ce l'abbiamo, un principe di Galles per guidare il paese. Ma non serve la giaccia. Che ne dice invece, io le propongo un doppio spacco in lana a Merinos. Uh, è la morte sua. È un pennello, Presidente. Oh, è perfetto per rimandare le grandi decisioni. Ma come rimandare? No, guardi, che lei le decisioni deve prenderle. Io sono solo un posticipatore. Quando l'Italia ha un problema, io con eleganza non lo risolvo. Non lo risolvo. Lo posticipo. Ah, lo posticipo. Salvini, la vuole la TAV? Sì. Di Maio no? Non la vuole. Io metto uno smoking in seta e la posticipo. Sì, ho capito, ma questo non è fare il Presidente del Consiglio. Sì, è vero ragione, ma almeno mi riconosca di essere un uomo... Sì. ...che non ha paura di dire tutto quello che pensa... Bravo! No, no, aspetta, mi faccia finire. Tutto quello che pensa Di Maio! Non è una vittoria del Movimento 5 Stelle, non sono qui per esultare. Oggi è una vittoria degli italiani. Di quegli italiani onesti, che sono la stragrande maggioranza della popolazione, che ci chiede atti forti rispetto ad un Paese che ha una delle percezioni della corruzione più alte d'Europa. Grazie. Grazie. Grazie.